Aprire un tavolo di confronto sulla campagna vaccinale anti-covid per coinvolgere i medici di famiglia nella somministrazione delle dosi. È quanto richiesto in una lettera aperta, inviata dal segretario regionale toscana del sindacato medici italiani, Nicola Marini, al presidente della regione Gianni e all'assessore alla salute Simone Bezzini. Secondo Marini, i medici di base e la medicina territoriale sono pronti a dare il loro contributo professionale e civico. Il sindacato medici italiani chiede di attivare con urgenza un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per le modalità operative di un'ottima organizzazione in questa fase della campagna vaccinale anti-covid. L'introduzione dei nuovi vaccini, sottolinea sempre Marini, per le diverse modalità di conservazione risulta compatibile con le attività della medicina generale, molto ben collaudate nelle vaccinazioni anti-influenzali stagionali.